www.migeneration.it Davide, hai visto il nuovo sito di Migeneration? Si vede anche sui mobile Allora, secondo me il sito è veramente figo, è veramente bello www.migeneration.it Contiene, contiene tantissime cose perché le cose che state presentate stasera fra azioni, formazioni, iniziative magari esplode, sì www.migeneration.it Devo dire che il sito è nettamente in contrattendenza con quello dell'amministrazione pubblica quindi molto più bello Vuole essere uno spazio virtuale che non è completamente slegato dagli spazi fisici e che in qualche modo ci permetta di costruire una comunità virtuale però non solo dell'amministrazione ma dei giovani milanesi www.migeneration.it Il progetto coinvolgerà 32 partner in tutto compreso il comune di Milano Da qua ad aprile tantissime opportunità poi arriverà la prima dell'estate tantissime iniziative per cui col disgelo si riprendono le attività Credo sia un progetto innovativo, fresco e qualcuno direbbe cool www.migeneration.it 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 www.migeneration.it